Che partidaccia ragazzi però, che partidaccia, cambia maglia, così, così se capiamo, che cazzo di squadrella il FCB, boh saranno rumeni in qualche cosa, non si cambia nulla, vabbè magari portamose Franco, posso di Silva, però Silva guarda che faccia, posso di gara, ma non mi sta piacere per niente, per nulla, non si può, non si può, non si può proprio, bravo Spina, bravo Spina, vero tu, Alcarazzo c'è prova, niente, niente, eh dai ogni tanto ho un bucio di culo, mamma mia Gimenez che lanci brutti, quanto lancia brutto Gimenez, bravo Spina, vai Vito, bravo capitano, vai Vito, bello, Santiago vicino, sempre difficile fare previsioni su chi sarà il giocatore più decisivo, uno dei nomi su cui puntare può essere proprio lui, si spera, ovviamente la novità, bravisci, non mi devete mai, un patimello, Gimenez, bravo Gionto, vai Gionto, Gionto, aspetta il movimento di Gimenez, Gimenez, porca puttana, porca puttana, che sfiga, eh sì, sono umeni questi, dai, ma che cazzo di controllo era, ma voi facevice, ma perché nulla P, che cazzo applaudi, ti sei fatto sarta come un cretino, occhio al cross in mezzo, hai tutto bene qui la situazione, no pure te Carlos, te prego pure te no, le cazzate no rega, le cazzate no per favore, va via Alcaraz, benissimo, pallone per Gionto, 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 per Vigorelli, il ritorno del capitano, era quello che tutti aspettavamo, dai, cazzo, a quota 2, quota 2, Vigo, tu hai tolto alle tue partite, Vigo, dai, bravo Gionto, vola Gimenez, può volare Gimenez, i lanci però non sono in suo forte, manca i passaggi però, manca i passaggi però che cazzo dobbiamo fare la curaccio, non può da far nulla, siamo troppo su, con questa cazzo di difesa, Gionto, va via, Gionto, Gionto contro tutti, serve il pallone a Vigorelli, Vigorelli, che te sei magnato, che ti sei magnato, l'imortacci tua, che soi mia, prende campo il Vigo, bella l'idea, però De Reuk, ferma tutto, fischia l'arbitro che è finito, fischia l'arbitro con la prima frazione che si chiude, va bene, va bene, va benissimo, stiamo giocando solo noi, io non farò uscire nessuno, va bene, oh, ma porco due coso, covacevic, no? Ma porco due dico io, no? Ma che devi sci per forza, devi sci, te devo far sci per forza, te devo far sci, Alcarazzo è qui, entra Minieri, Magnusson 67, bene, è salito, Vigorelli anche 77, bene, bene, che cazzo c'è a covacevic, c'è un gioco più a pallone, ben posizionato qui, recupera il pallone, si sente, si sente minacciato dai nuovi arrivi, che cazzo ne so, è De Legno, Minieri, va via Minieri, fa quello che vuole Minieri, 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 niente, se li mangia tutti, porca madonna, scusate, mi hai riscaffato, se li mangia tutti, tutti se li mangia, occhio al tocco in mezzo, non riesce a... vai, abbiamo fatto tutto bene, Minieri, povero, porca puttana, guarda, sta avvelenato, sta avvelenato, però non segna, mamma mia, Gimenez, che passaggi brutti, te posso far sci, te posso far sci, per favore, vai Silva, vai Silva, esterno, impignente, va bene, uguale, vai Silva, che c'hai una fascia dispiaciuta, Silva, muovono bene il pallone, su, diamolo, via lo porco, due, questo da solo, da solo stava, ragazzi, stiamo a pareggiare con l'FCB, che non so che cazzo è, non si sa che squadra è, non si saprà mai, stanno in Europa League, non so perché, però l'FCB, per favore, per favore, ritroviamo noi stessi, 3 a 0 casa l'ernitana, mozza mappaggia con l'FCB, dai, per favore, per favore, lo chiedo, prossimo incontro col Bologna, siamo perso casa l'ernitana, persa col Bologna, dai Aralco, su, troviamo noi stessi, per favore, abbiamo vinto con l'Arsenal, con l'Arsenal, Alcalazzo, bravissimo, per Vico Relli, Vico Relli, non puoi sbagliare Vico, non puoi sbagliare Vico, non puoi sbagliare, che giocatore, che giocatore ragazzi, il Vico, torna dopo un mese, con 35 velocità, o con 23, e fa la doppietta, mamma mia, è il nostro capitano, che merita quella fascia, assolutamente, dai, dai che non si può, non si può fare gioco, i rumeni, dai, senza offesa per i rumeni, ma non siete tanto, pratici a calcio, magari a scassinare auto, ma, ma non a giocare a calcio, Vico Relli, bellissimo, che parte troppo presto, Silva però, il cronometro segna l'ottantaquattresimo, d'accordo, grazie, è arrivato il momento di cambiare qualcosa, bravo Silva, 5 minuti da giocare, bravissimo Silva, Vico Relli, che brutto pallone di Vico Relli, certo, Alcaraz, 2 a 7 in più, gli poteva anche fare, tanto ottesimo, tanto ottesimo, a Rauco, come al solito, di Arra, bravissimo, Alcaraz, buona per Menoncello, che ha praterie, Menoncello, 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 non si ferma, il meno, non si ferma, la prova, Menoncello, vicinissimo, al secondo gol, ma che ha preso, la traversa, no, l'ha presa, sto pezzo di merda, l'ha levata da sotto al 7, l'ha levata da sotto al 7, guarda quanto ci sta a far giocare, guarda che pezzo di merda, quest'arbitro, guarda, vereduce, prova, è finita, che dici, andiamo, no, altri 3 punti in Europa League, 0 passi falsi, siamo a 9 punti, passiamo il girone per forza, per forza,